buonasera a tutti ragazzi mi viene da ridere questo è un video dove spiegherò un po la situazione attuale che circola tra i tifosi per chi non lo sapesse ci sanno parecchi interisti come al solito un paio addirittura tirano proprio i piedi al napoli un paio di interisti che si esaltano come ogni anno allora non è per tirarvi i piedi ma dovete capire che non è un film nuovo questo qua quello che stiamo vedendo cinque vittorie di file embe quante volte l'inter negli ultimi anni ha fatto un filone di vittoria a inizio stagione quante volte anche con spalletti con mancini se non ricordo male cinque vittorie di fila calma poi c'è qualcuno che dice pure eh avevi detto no a me avete detto voi che con il cagliari faccia va a vincere cagliari guarda che qua leo channel è stato l'unico forse ma non l'unico io credo andatevi a rivedere il video di dell'anno scorso dove feci una lode al cagliari che in casa era molto tosta questa squadra quindi lo notai come al solito sono uno dei pochi i competenti su questa piattaforma e lo notai già l'anno scorso quindi poi un altro pupillo mio che quest'anno dovete dovete tenere sott'occhio nandes sta giocando al cagliari quindi un'ottima squadra il cagliari infatti ho detto che la vittoria a cagliari è stata forse la vittoria più più impronosticabile diciamola così poi le altre partite guardate bene che il calendario all'inter gli hanno dato bene per l'inizio guardatevi bene il calendario udinese lecce è inutile che tu hai visto ora queste due vittorie fuori casa vedrai a fine anno il lecce dove finirà voi guardate subito dopo un paio di giornate udinese lecce poi noi ci saranno qualche milanista esaltato ma noi vedete che facciamo schifo che non stiamo proponendo il gioco con giampaolo alla fine in questo momento poi chissà nell'arco della stagione perché una stagione vive di momenti ancora vedremo se l'inter sarà da scudetto come dite voi ma voi vi esaltate comunque sia il milan in questo periodo facile da battere quindi e poi come l'hai battuto alla fin dei conti ora per ritornare al derby l'inter ha meritato come gioco senza ombra di dubbio ma vedete che prima di quel gol di brozovic se il milan andava in vantaggio qualche occasione che dite che tiri non abbiamo avuto ho visto l'occasione di suso che si è mangiato da solo davanti al portiere intanto in quel momento si stava sullo 0 a 0 se in quel momento il milan ahimè andava in vantaggio poteva cambiare la partita quindi hai dominato alla fine ma certuni parlavano 6 7 a 0 il milan non ha tirato in porta piontek il colpo di testa sbagliato che si il gol annullato molto dubbio diciamo che si poteva anche non annullarlo però si è annullato va bene così suso che ha sbagliato in quell'occasione lì davanti alla porta del posto di passare ha tirato in porta quindi ci sono tre occasioni ovvio l'inter ne ha avuto di più ne ha avute di più inter poteva sicuramente ha vinto diciamo il giusto 2 a 0 poteva finire 4 a 2 poteva finire non lo so fatto sta che hai giocato comunque con un milan sottotono e adesso la lazio che ha avuto tantissime occasioni ringrazio andanovic ovvio hai andanovic per questo motivo però io tutte queste squadroni non le ho viste affrontate vedete che il napoli ha affrontato la fiorentina fuori casa la juventus allo juventus stadium e oggi ha avuto un po di sfortuna col cagliere non mi dire di no ragazzi quanti tiri ha avuto il napoli e quanti tiri ha fatto il cagliere quindi questi sono come dite voi la sorte prima o poi gira quindi stai attento interista tu che butti sempre che dici al napoletano di non dover festeggiare ma dimmi tu se uno vince con liverpool non dovrebbe festeggiare ma in che mondo vivete cioè allora tu se ora dovessi battere la juve non festeggiare perché devi guardare prima a fine anno che c'entra per quel momento festeggi hanno fatto bene a festeggiare i napoletani perché hanno battuto il liverpool se tu dovresti battere il barcelona in champions credo che festeggerai come giusto che sia ma il napoli ha battuto il liverpool campione d'europa che il barcelona non è più diciamo il vecchio barcellona è sempre una delle squadre più forti però in passato è stata più forte chiaro quindi caro interista stati molto molto calmo vedo molto molti esaltati il pifferaio di foggia molto esaltato e tira i piedi dei napoletani ma lui è molto esaltato attenzione che questo non è un film nuovo l'abbiamo già visto le squadre di conte partono a 3000 e poi si perdono perché questa gasolina prima o poi ti mancherà quella che stai sprecando lukaku ora veniamo ai giocatori vi ho detto che lukaku non è un fenomeno lukaku non è un fenomeno vi ho detto che lautaro martinez non è un fenomeno lautaro martinez non è un fenomeno vi ho detto che avete una bella difesa avete una bella difesa vi ho detto l'anno scorso naengolan e tutti a prendermi in giro subito perché il pifferaio di foggia era contentissimo questo top play è arrivato vi ho detto naengolan oramai a fine carriera questo è oramai un giocatore finito ha avuto ragione vi ho detto sempre che c'ha la nulla è un problema per il milan ed è vero suso tanti si reclamano di suso ma intanto suso è quel mezzo giocatore buono tanto qualche cosina si crea da lui persino il gol che ha fatto scena loro contro e breccia cross disuso quindi abbiamo tanti giocatori pippe ho detto anche l'anno scorso che il problema sono le fasce in effetti abbiamo problemi sulla fasce adesso tutti parlano che rodriguez da passaggi indietro questo lo dicevo io dall'anno scorso dall'inizio ho sempre detto ragazzi quindi alla fine la ragione ce l'ho sempre io perché di calcio ne capisco e vedo ho detto orebic prendiamolo fortunatamente facciamolo giocare a questo orebic e tante altre benedette cose che ho detto quindi state calmi interisti state molto calmi siate contenti che si vinca ovvio però già parlare di scudetto non siete da scudetto prima o poi le magagno usciranno fuori statevi tranquilli non vincerete lo scudetto statevene tranquilli e il napoli pur che ha perso due partite anzi veniamo al napoli due anni o tre anni fa disse napoli scudetto intanto se la giocò nessuno dopo la partita juventus napoli tutti sono cagati veramente addosso nessuno lo dava come possibile campione italia intanto c'è quasi arrivata ora tu dirai non ce l'ha fatta ma tu che se l'avessi se l'avessi giocata fino in fondo così non ce l'avessi creduto quindi alla fine ho ragione io e tante altre cose che adesso non sto qui ad elencare le partite in champions vi dicevo attenzione all'eindhoven tanti sottovalutavano attenzione che puoi tranquillamente pareggiare in casa con l'eindhoven fatto ma io parlo prima io parlo prima e già vi parlo adesso in questo video pure prima attenzione vi state troppo sopravvalutando quest'anno è vero avete fatto acquisti veramente bui però a differenza degli anni scorsi io non vedo questo attaccante che vi porta vi potrà portare la gloria con i cardi se tu ora perché se mantenevi i cardi però con questi acquisti adesso con godin devrai godin devrai scrignar andanovic ottima difesa al centrocampo adesso sensi si sta dimostrando uno che sta dando sta dando un po di geometria ovvio il punto più debole è il centrocampo e questo attaccante che ancora forse sarà alexis angeles sperate in alexis angeles questo attaccante non ce l'avete lukaku è inferiore ad i cardi se aveste i cardi forse direi che quest'anno veramente lo scordete perché hai la difesa e poi lì davanti un uomo che colpisce però statevi calmi statevi molto calmi quindi vi esaltate troppo e dite poi ai napoletani che si esaltano non devono girare mentre voi invece per non aver vinto ancora nulla perché in effetti non hai vinto nulla voi vi si deve esaltare ma vedete che logica avete accendete il cervello ma che logica avete il napoli non deve festeggiare la vittoria con liverpool ma che roba di malati che malati siete però voi dovete festeggiare che adesso avete battuto il la lazio esaltarvi adesso vi rompiamo il culo stai tendo ancora non hai giocato con nessuno anche oggi anche questa mezza squadra buona che la lazio l'hai affrontata in casa stai attento devi andare a giocare a firenze devi andare a giocare a torino devi andare a giocare a napoli stai attento deve anche andare a giocare a lecce vedemoli stai tranquillo il campionato in lungo le candidate rimangono juve napoli stop ok quante altre perle basta seguire le ocean che mi ha seguito da sempre sa quante perle ho dato per questo video è tutto non vi esaltate e il pifferaio di foggia non capisce come al solito nulla di calcio sempre dimostrato non ha detto mai nulla di concreto che si sia avverato né sui giocatori e sui risultati ogni tanto diciamo poi questo dei pronostici ci vuole anche il bucettino del culo su un pronostico alla lunga si vede il cavallo buono e lì non ci ha mai azzeccato va bene ragazzi tranne quell'anno con la juve scudetto è andata pure a culo perché dopo juve napoli si è cacato addosso si in champions il liverpool non l'ha previsto io avevo dato le mie quattro favorite le mie due top e le due mie attenzioni e lì in mezzo c'era il liverpool non il manchester city vi ho detto pure il tottenham passava col manchester city ragione vi ho detto ma quando viene ho detto in europa lì attenzione al francoforte è stata la squadra rivelazione ma lo dicevo prima poi ho detto benfica e francoforte benfica il francoforte vincerà in casa e passerà il turno ragione attenzione con cesi e sono andati se la sono giocati celsi franco e tante altre cose qua io te lo firmo qua quest'anno questa è una cosa a lungo andare quindi avrò ragione quest'anno l'inter non vince lo scudetto stati bel calmo tranquillo non sfottere gli altri e si molto più umile diventa umile e come dice quel pifferaio vi devono arrivare taccarati perché